Musica Buonasera e benvenuti nella terza edizione del TG6. In primo piano c'è la seduta odierna del Consiglio regionale a Pescara. Una seduta che nel pomeriggio è stata bloccata dai lavoratori interinali di Attiva che hanno chiesto di incontrare il Presidente della Giunta Luciano D'Alfonso. Chiedono la stabilizzazione del loro contratto a termine. Vediamo. Prima l'interruzione del Consiglio regionale, poi il colloquio all'ennesimo con il Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso. Nel mezzo le proteste vibranti dell'opposizione Forza Italia e Movimento 5 Stelle che hanno chiesto a gran voce al Presidente del Consiglio regionale di Pangrazio di poter ascoltare le rimostranze degli interinali di Attiva sospendendo il question time in corso. Gli ex dipendenti a tempo determinato della municipalizzata pescarese che si occupa della raccolta dei rifiuti e della pulizia della città sono tornati a protestare. La richiesta è sempre la stessa, regolarizzare la loro posizione lavorativa dopo anni con contratti mensili. Nei giorni scorsi il Comune di Pescara ha inviato la lettera alla Corte dei Conti contenente la richiesta di parere in merito alla possibilità di procedere alla conversione o trasformazione dei rapporti di lavoro interinali in rapporti di lavoro a tempo indeterminato all'esito di una conciliazione stragiudiziale. Al Presidente D'Alfonso i lavoratori hanno detto di non voler sentir più parlare di concorsi dopo la scottatura ricevuta dal concorso svoltosi proprio qualche settimana fa e che ha visto la quasi totalità degli interinali esclusi dalla selezione. Sono convinto che gli interinali agganciati ad un'agenzia di interinato costi di più rispetto ad una soluzione che invece rispettosamente per la legge possa essere trovata per esempio o concordatamente se le procedure lo consentono o con un concorso dedicato che esalti le specifiche professionalità conseguite. Questo però è argomento di dettaglio che deve essere visionato con cura da stasera nei prossimi giorni facendo in modo che il tempo necessario sia il più breve tempo possibile. Il concorso non lo vogliamo ma non perché vogliamo avere una corsia preferenziale perché il nostro diritto al lavoro ci è stato strappato e ci hanno buttato in mezzo alla strada senza un perché dall'oggi al domani. Non è giusto quindi ripresentare un'altra volta un concorso. Hanno portato delle scarpine da neonato e fiocchi rose e azzurri. Questa è la singolare protesta del Comitato per la salvaguardia del punto nascito di Ortona che ha consegnato i doni ai consiglieri regionali, all'assessore alla sanità Silvio Paolucci e nonché al presidente della regione Luciano D'Alfonso per contestare il piano di riorganizzazione sanitaria. Protesta davanti il Comune di Pescara in occasione del Consiglio regionale per chiedere la riapertura del punto nascita dell'ospedale di Ortona. Siamo con la signora Lucia, tanti altri stanno arrivando. Voi dite che ci sono i numeri e non solo per la riapertura del punto nascita. I numeri ci sono sempre stati. Adesso noi siamo venuti con questo gesto simpatico anche per chiedere al commissario ad acta Luciano D'Alfonso e solo lui ci può aiutare in questo caso anche perché anche la sentenza del Tarsu Atri ha rimandato a lui questa competenza non di assumere perché il colaggio del leader ce l'ha già semplicemente di avere il coraggio di ritornare sui suoi passi e di riaprire il punto nascita di Ortona e di aiutarci anche con la ginecologia perché non abbiamo nemmeno la ginecologia ad Ortona abbiamo quella oncologica ma qualora dovessimo recarci noi per qualsiasi problema non possiamo andarci. Tutto qui. Una protesta pacifica tra l'altro anche simbolica perché voi consegnerete delle coccarde rosa e azzurre ai consiglieri regionali e consegnerete delle scarpine da neonato all'assessore alla sanità Paolucci. Assolutamente sì, se ci faranno raggiungere sì le scarpine sono per il presidente D'Alfonso e per l'assessore Paolucci e le coccarde sono per tutti i consiglieri con le scarpettine per la componente femminile del Consiglio regionale. Ed ora la cronaca e torniamo ad occuparci dell'omicidio duplice che è avvenuto domenica pomeriggio a Pescara in via Tibullo su questo omicidio prosegue il lavoro degli inquirenti discrepanze tra la ricostruzione dell'arrestato Maxim Cernisch e i rilevamenti fatti dal RIS di Roma e dal medico legale. Secondo l'Ucraino si sarebbe trattato di una difesa dalla madre e dal figlio che avrebbero tentato di derubarlo. Proseguono le indagini sulla dinamica del duplice omicidio di via Tibullo. Dopo l'arresto di Maxim Cernisch si mettono a confronto le sue dichiarazioni con il lavoro del RIS e del medico legale. L'assassino ha riferito di essere stato aggredito da Arkadius Mitzka che lo ospitava nel suo appartamento in attesa di trovare un alloggio. Per farlo l'Ucraino avrebbe pagato 150 euro all'amico per ospitarlo. Il diverbio, secondo quanto riferito, sarebbe nato mentre l'Ucraino stava provando a riparare un mouse. Entrambi avevano assunto droghe. La vittima, che era anche il fornitore di stupefacenti di Maxim Cernisch, aveva assunto eroina, mentre quello che poi è diventato l'assassino aveva assunto marijuana. Maxim Cernisch ha dichiarato di essersi difeso da un'aggressione avvenuta sia con un coltello che con una mazza da baseball e entrambe le armi sono state ritrovate dalle forze dell'ordine durante l'operazione. Se da un lato una parte delle dichiarazioni rese dall'Ucraino trovano riscontro nei fatti, come nel caso delle ferite riportate alle mani, tendini recisi compatibili con ferite da difesa, dall'altra Cernisch riferisce di essere stato aggredito anche dalla madre di Arkadius Mitzka, quasi come se i due fossero d'accordo sull'aggressione. Secondo l'arrestato infatti l'obiettivo sarebbe stato quello di derubarlo dei soldi che aveva con sé, soldi dati a lui dalla madre come tesoretto per trovare un nuovo alloggio e iniziare una vita indipendente a Pescara. Fino a quel giorno infatti i due vivevano insieme a Francavilla. Secondo l'analisi svolta dal medico legale invece la donna sarebbe stata uccisa a freddo senza venire in contatto con l'assassino prima. A non convincere gli inquirenti inoltre le modalità del duplice omicidio, proprio l'efferatezza del crimine non sarebbe compatibile con il suo racconto. Arkadius Mitzka sarebbe morto sotto una furia di 20 coltellate e il suo cranio sarebbe stato deformato dai colpi ricevuti. Cristina Mitzka sarebbe stata uccisa sul pianerottolo con 15 coltellate e diversi colpi inferti con la mazza da baseball, poi ritrovata nella sacca abbandonata lungo via dei Pretuzzi. Dopo averla uccisa, Cernish l'avrebbe trascinata dentro l'appartamento, fuggendo e lasciando dietro di sé una scia di sangue che ha condotto le forze dell'ordine fino al luogo nel quale si era nascosto. Sul caso continuano ad indagare i carabinieri della compagnia di Pescara con il supporto del RIS di Roma aggiunto per i rilevamenti. Nei prossimi giorni si procederà agli esami tossicologici e si attende la relazione del medico legale ancora a lavoro in queste ore. Intanto è stato fissato per domani alle ore 11 l'interrogatorio di Maxim Cernish ad ascoltare l'omicida in carcere sarà il GIP Gianluca Sarandrea. Il 26enne ucraino Stamani dalla casa circondariale del capoluogo Adriatico è stato trasferito in ospedale dalla polizia penitenziaria. Il giovane deve essere sottoposto ad un intervento per le lesioni riportate alla mano durante la colluttazione con il polacco. Ancora la cronaca. Si difende la ex titolare del COIBA, il locale incendiato il 27 ottobre scorso a Chietiscalo. Secondo la donna si sarebbe trattato di un problema all'impianto elettrico. Parla la ex titolare del COIBA, il locale situato a Chietiscalo nel quale scoppiò un incendio il 27 ottobre scorso. Dopo essere stata accusata di essere responsabile dell'incendio definito dunque di origine dolosa secondo la relazione dei carabinieri che indagano. Le fiamme sarebbero partite da più punti del locale danneggiandoli in maniera grave. Inoltre sopra il locale le fiamme e il fumo avrebbero messo a rischio anche gli inquilini presenti. La donna che si avvalsa della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia ha scritto una lunga lettera recapitata ad un locale quotidiano online all'interno della quale spiegava in dettaglio perché le accuse a lei mosse fossero infondate. Se in un primo momento si era attribuito attenzioni con i proprietari delle mura e ad uno sfratto impellente che sarebbe dovuto avvenire due giorni dopo l'incendio la donna ha ricostruito quel giorno ricordando di essere stata l'ultima a lasciare il locale. Insieme a lei sarebbe stato presente un rappresentante di commercio e un amico che l'avrebbe aiutata a portare via delle attrezzature proprio in vista dello sfratto. Anche l'auto con cui sarebbe stata vista allontanarsi da un testimone non combacerebbe con quella guidata dal suo amico. Inoltre secondo la relazione l'incendio sarebbe partito da diversi punti del locale in cui l'impianto elettrico non sarebbe stato attivo. Ecco dunque il sospetto per la dolosità. La donna ha spiegato che in quell'ultimo periodo l'impianto elettrico avrebbe causato problemi frequenti come l'esplosione di lampadine anche durante le serate in cui era aperto al pubblico. Al momento i vigili del fuoco non sono riusciti ad accertare la vera fonte delle fiamme come ricorda la donna che dice di aver avuto dissidi con i proprietari del locale ma non per morosità come invece era stato detto in un primo momento e sottolinea che passare da un dissidio all'appiccamento dell'incendio non è un passo così scontato. Alla presenza dell'amministratore delegato di Trenitalia Barbara Morgante sono stati presentati all'Aquila quattro nuovi vagoni modello Swing che opereranno nella tratta che unisce il capoluogo a Sulmona. Buone notizie per i pendolari della tratta all'Aquila-Sulmona. È stato consegnato questa mattina il primo dei quattro nuovi treni Swing che garantiranno 14 collegamenti giornalieri. Più comfort, più affidabilità e puntualità garantisce l'amministratore delegato di Trenitalia Barbara Morgante parlando dei nuovi quattro treni che si aggiungono a quelli denominati Jazz già in servizio dal dicembre 2014. Il primo partirà alle 16.17 da Sulmona verso l'Aquila e il servizio per i due terzi sarà tutto fatto già da domani con questi nuovi treni. Da fine febbraio con l'arrivo del quarto ed ultimo tutto il servizio sul Monal'Aquila sarà effettuato con questi nuovi treni che sono treni, lo vedete voi stessi, belli esteticamente perché bisogna curare anche questo esternamente ma soprattutto internamente garantiscono comfort, garantiscono security hanno delle videocamere all'interno e all'esterno per il controllo dell'ambiente interno ed esterno hanno delle prestazioni ottime quindi assolutamente credo verranno appressati da quanti tutti i giorni e non solo tutti i giorni hanno necessità di fare questo tipo di spostamento. In arrivo poi anche altri cambiamenti e novità per velocizzare il collegamento tra aree interne e aree costiere A questo investimento ne segue uno nelle prossime settimane riguardante la dotazione ferrata nella direzione l'Aquila-Pescara che riduce i tempi di percorrenza sono due fatti coerenti, assolutamente corrispondenti che permetteranno agli abruzzi di diventare abruzzo come dice Pierpaolo Pietrucci Si è svolto ieri a Pescara un incontro tra il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, il consigliere regionale delegato ai trasporti Camilo D'Alessandro, il presidente di TUA Luciano D'Amico ed il dirigente regionale dei trasporti pubblici Maria Antonietta Picardi Un incontro importantissimo ha dichiarato il sindaco Cialente nel corso del quale abbiamo focalizzato l'attenzione sul lavoro che si sta facendo da alcuni mesi, gradualmente in tempi giusti allo scopo di raggiungere l'obiettivo della fusione tra AMA e TUA strategico per l'intero Abruzzo abbiamo pertanto delineato la strategia e i passaggi per stringere sin da ora una forte alleanza che a fronte delle difficoltà e dei finanziamenti destinati al trasporto pubblico centrando l'obiettivo della migliore efficacia e maggiore efficienza sia capace di assicurare ai cittadini del capoluogo e del comprensorio la qualità del servizio Sbarca a Pescara la discussione sulla proposta di legge popolare per la Carta dei diritti dei lavoratori con la quale la CGL intende proporre l'estensione dei diritti anche a chi oggi è un precario del mondo del lavoro La CGL ha indetto una consultazione straordinaria degli iscritti per presentare il progetto di legge d'iniziativa popolare della Carta dei diritti universali del lavoro ovvero del nuovo statuto delle lavoratrici e dei lavoratori La proposta è quella di una legge di rango costituzionale in grado di misurare il cambiamento intervenuto nel mondo del lavoro che oggi vede molte diseguaglianze, discriminazioni e divisioni Lo statuto è fatto di tre parti i principi universali, le norme di legge che danno efficacia generale alla contrattazione e codificano democrazia e rappresentanza per tutti e poi la riscrittura dei contratti di lavoro È un progetto che tiene dentro sia il tema dell'universalità dei diritti sia le questioni relative alla contrattazione sia un'operazione che proviamo a fare di rimessa in discussione dei contenuti delle leggi che sono intervenuti pesantemente nel mercato del lavoro impoverendo e riducendo le tutele L'obiettivo della CGL è quello di estendere i diritti a chi non ne ha e riscriverne di nuovi per tutti per garantire i diritti nel lavoro in un mondo che cambia velocemente ed ha bisogno di innovazione In realtà qui si fa un'operazione che tiene dentro gli ultimi vent'anni di legislazione regressiva sui temi del mercato del lavoro questo noi lo vogliamo sottolineare all'interno di questo impegno ovviamente proviamo anche a lanciare alcuni elementi di innovazione dall'estensione dei diritti anche ai precari, ai parasubordinati insomma a tutti coloro che non si ritrovano e che non hanno tutela in questa fase in questo momento sia a provare a rimettere in campo un'idea di rappresentanza diversa provando a costruire appunto quelli che sono gli elementi per un nuovo modello di rappresentanza nel lavoro Con questa proposta la CGL vuole ridare diritti, democrazia e dignità al lavoro guardando avanti con una proposta che sia capace di leggere il cambiamento Io credo che davvero si sia fatta un'operazione molto pesante dal punto di vista delle tutele dei diritti che scontano solo ed esclusivamente i lavoratori credo che sia giunto il momento di cambiare cambiare punto di vista come diciamo Nella polemica sull'accorpamento della soprintendenza dei beni culturali di L'Aquila a Chieti interviene il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi che risponde a Pietrucci del PD che aveva parlato di scippo per il capoluogo d'Abruzzo non ne facciamo una questione di campanile dice la Marcozzi che apprezza la decisione del Ministero Soprintendenza dall'Aquila a Chieti ormai sembra tutto deciso qual è la posizione del Movimento 5 Stelle? Noi critichiamo il consigliere Pietrucci che fa di ogni cosa una lotta campanilistica non è una questione di campanile, è una questione di morfologia territoriale e crediamo che Chieti possa essere una buona opportunità per tutto l'Abruzzo aggiungiamo che il consigliere Pietrucci fa parte del partito che al governo della nazione al governo della regione pensasse ad una programmazione della cultura e a una programmazione delle belle arti nella nostra regione non soltanto a dove dislocare una sede E a chi dice che pian piano l'Aquila viene svuotata di alcuni poteri anche politici e lei cosa risponde? Ma io non credo sia così, l'Aquila è attenzionata da tutti quanti noi tutti quanti noi abbiamo a cuore l'Aquila e la ripartenza finalmente dell'Aquila E parliamo proprio dell'Aquila, neanche i lavori per la ricostruzione post-terremoto sono sufficienti per risollevare le sorti dell'edilizia in provincia dell'Aquila dove la CISL denuncia un forte calo di lavoratori nel settore Non basta il cantiere più grande d'Europa, ma poi davvero così a dare l'infa e slancio al settore dell'edilizia in città e in provincia dell'Aquila Anzi, i lavoratori del comparto sono diminuiti, così come il monte salari e stipendi il che, tradotto in termini pratici, significa meno economia per un intero territorio non solo per operai e carpentieri A lanciare l'allarme è la CISL attraverso il segretario provinciale Paolo San Germano ed il segretario regionale della FILCA Pietro Di Natale che sottolineano come vi siano diverse aziende che applicano contratti non di settori tipo metalmeccanico o dei servizi fanno a meno di transitare nelle casse edili locali in cui sarebbero obbligate a versare eludendo i pagamenti La diminuzione delle ore lavorate in busta paga, spiega Di Natale San Germano comporta la perdita di parte della retribuzione di prestazioni assistenziali aggiuntive, di contributi per la pensione e di premialità Una diminuzione di lavoratori e di massa salariale preoccupante affermano i sindacalisti Le casse edili della provincia dell'Aquila con la nuova procedura del DURC telematico sono state estromesse dal controllo del settore con ripercussioni pesanti per i lavoratori Le imprese infatti risultano in regola anche dichiarando un solo lavoratore mentre gli organismi preposti non sono più nelle condizioni di controllare la congruità, ovvero la percentuale di manodopera occorrente per realizzare un appalto rispetto all'importo finanziato La conseguenza diretta sono una elevata evasione fiscale e contributiva che penalizza anche tutte quelle imprese serie della provincia che operano nel pieno rispetto delle regole Risultano infatti meno versamenti per i lavoratori meno prestazioni assistenziali meno premialità meno fondi da investire in sicurezza e meno formazione Accordo CNA Scuole Si tratta di un protocollo per favorire l'alternanza scuola-lavoro che coinvolgerà gli studenti delle scuole superiori abruzzesi Potenziare l'offerta formativa delle scuole abruzzesi attraverso la realizzazione di percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro con il mondo dell'artigianato e della micro-impresa pronto ad aprire le sue porte per realizzare questo obiettivo Vuole rappresentare un originale contributo ad uno dei punti più innovativi della recente riforma della scuola voluta dal governo Renzi il protocollo d'intesa sottoscritto questa mattina all'Aquila dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Ernesto Pellecchia e dal presidente regionale della CNA Abruzzo Italo Lupo un documento che attraverso una serie di azioni e percorsi mirati punta a favorire la crescente integrazione tra il mondo della scuola e l'impresa rompendo un'antica separazione attraverso la creazione di percorsi originali che coinvolgono tanto gli istituti scolastici superiori che il sistema delle imprese Mettendo a disposizione tutta l'organizzazione e tutto l'entusiasmo fra l'altro nel portare avanti questo discorso il rapporto tra la scuola e il mondo del lavoro deve essere sicuramente messo come una priorità troppo tempo per troppo tempo sono state due realtà ognuna indipendente dall'altra quando effettivamente sia da parte delle scuole degli studenti sia da parte dell'impresa c'è questa esigenza L'accordo promette di realizzare un organico collegamento tra scuole e CNA attraverso un pattenariato stabile, efficace e pluriennale intende favorire la formazione degli studenti relativamente a competenze mirate ad una crescita professionale strettamente legata alle esigenze del territorio incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti attraverso l'attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro degli istituti tecnici e professionali per almeno 400 ore e dei licei per almeno 200 ore nel triennio coinvolgere in questo percorso un numero elevato di imprese e alunni oltre a un numero di scuole significativo correlare poi l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio in Abruzzo sono interessate le scuole superiori e c'è un investimento di 400.000 euro è importante la firma di questo protocollo di indesa con il quale noi andiamo ad aggiungere un importante tassello al quadro di collaborazione di sinergia interistituzionale che stiamo cercando di sviluppare proprio per facilitare l'attivazione di questi percorsi di alternanza scuola-lavoro a livello scolastico e ora parliamo del piano demaniale di Pescara ancora polemiche e abbiamo ascoltato Maurizio Acerbo di Rifondazione Comunista Acerbo, lei si è dichiarato contro più volte al piano demaniale messo in campo dal Comune Comune che ieri ha detto non ci sarà l'aumento di cubatura sbandierato del 30% ma dello 0,50 e poco più Venire a raccontare che non aumenta l'occupazione della spiaggia con questo piano significa prendere in giro non me ma decine di associazioni che hanno sottoscritto un documento articolato punto per punto in cui si spiega perché non va bene il piano demaniale del Comune di Pescara e della Regione Abruzzo quindi se vogliono aumentare il volume degli stabilimenti lo dicessero ma non negassero l'evidenza io voglio ricordare che prima hanno detto che l'aumento c'era ma che era un obbligo poi abbiamo dimostrato persino gli ha persino smentiti il dirigente competente della Regione Abruzzo che non era un obbligo adesso negano che ci sia un aumento l'aumento del 30% riguarda il circa 43-45 concessioni balneari quelle che sono già più grandi cioè che superano i 325 metri quadrati potranno usufruire di un'ulteriore norma che se loro dichiarano di stare aperti tutto l'anno gli consentirà di arrivare a 500 metri quadrati devo dire che molti balneatori sono intervenuti dicendo che il principale problema e su questo siamo d'accordissimo dato che sono 16 anni che noi lo denunciamo che il problema principale è l'inquinamento del mare quindi io dico ai balneatori al posto di chiedere cose assurde come di aumentare l'occupazione della spiaggia battiamoci insieme per invece chiedere una politica seria per quanto riguarda il disinquinamento del nostro mare torna a Teramo dopo lo stop in occasione delle festività natalizie il cantiere in Corso San Giorgio un cantiere che ha suscitato molte polemiche il primo cittadino risponde sui tempi annunciando la data prevista per la fine dei lavori Sindaco dopo la pausa natalizia sono ripresi i lavori su Corso San Giorgio quali saranno i tempi? Cercheremo di ridurli al massimo è chiaro che adesso fare una previsione è difficile anche se cercheremo per l'estate insomma di almeno la parte alta di Corso San Giorgio e i terminali abbiamo adesso siamo più facilitati nei lavori perché la sovrintendenza ci ha autorizzato preventivamente nel caso in cui ci fossero trovamenti come quelli che già abbiamo che si sono evidenziati nella prima fase dei lavori non ci sarà bisogno di sospensioni quindi questo abbrevierà notevolmente i tempi sappiamo quello che troviamo perché abbiamo più o meno già fatto tutte le verifiche anche gli scavi fatti ci hanno come dire rassicurato da questo punto di vista adesso abbiamo preso due settori appunto per velocizzare i lavori alcune tipologie di lavori verranno effettuati la domenica il giovedì pomeriggio e di notte quelli proprio diciamo nelle zone prospicenti ai negozi quindi insomma io direi che adesso dobbiamo come dire il momento clou e quindi bisogna stringere i tempi i tempi il tempo è buono e quindi ci permette di lavorare e quindi andiamo decisi e rapidi alla soluzione diciamo alla fine dei lavori è chiaro che è un'opera pubblica come tutta l'opera pubblica e sono imprevisti però insomma è un lavoro che si deve fare il restaling del corso ridarà qualità al nostro centro storico e secondo me insomma sarà anche un buon viatico per migliorare un po' quello che è un momento difficile cioè parlo insomma della crisi soprattutto della crisi del commercio si sono calmate le acque con i commercianti? come è che ci siamo sempre confrontati condividiamo con loro i percorsi insomma è chiaro che adesso qualche disagio ci sarà però se ragioniamo di fatto come dire il cantiere favorisce anche se vogliamo la vicinanza al negozio ora obiettivamente qualche disagio ci sarà ma se si vuole rendere più bella la città qualche disagio bisogna sopportarlo abbiamo fatto tutto quello che i commercianti ci hanno chiesto abbiamo sospeso il periodo di Natale per oltre un mese è chiaro che adesso questo cantiere si deve fare altrimenti voglio dire e non è possibile come qualcuno ha sostenuto anche in passato che era meglio non fare i lavori credo che questo sia davvero un atteggiamento che non può funzionare il comune di Campli darà il via ai lavori per migliorare la viabilità della cittadina Farnese interventi interesseranno il ponte di Nocella la Pedemontana e la zona Morge quest'ultimo grazie al contributo della regione Sindaco dall'incontro con l'ANAS cosa è emerso? abbiamo fatto un incontro in municipio la scorsa settimana con i funzionari dell'ANAS per quanto riguarda i lavori della Pedemontana che sono ripartiti è prevista nel nostro territorio in particolare nella località la traversa una rotatoria e io ho chiesto visto che il progetto non lo prevede una nuova illuminazione un'area in cui obbicare una benzina per gli autobus o per i ragazzi che vanno a scuola ma non solo e delle zone pedonali per i residenti poi c'è un altro lavoro molto importante per Campli che è il ponte di Nocella anche lì c'è un contenzione finalmente è stato risolto i lavori sono partiti è previsto un nuovo ponte perché il vecchio viene messo in sicurezza e più viene fatto questo nuovo ponte quindi sicuramente un ingresso migliore per Campli poi da pochi giorni abbiamo avuto una bella notizia che sono stati impegnati da parte della regione 80.000 euro per la zona di Morgi per migliorare anche lì la viabilità in cui nel periodo delle avversità meteorologiche ci sono stati diversi danni quindi un anno molto importante per Campli a livello di viabilità che permette appunto di avere un accesso migliore al centro e tutte le frazioni limitrofe ecco sul ponte di Nocella tornando al ponte si sono registrate tante polemiche negli anni passati quali saranno i tempi ora che si è sbloccato appunto il contenzioso? allora io sto monitorando la situazione costantemente sia con la provincia sia con la ditta esecutrice dei lavori i tempi sono abbastanza stretti ed è previsto per la fine dell'anno la conclusione dei lavori voglio precisare che è prevista anche una passerella pedonale ciclistica che permette appunto alla gente di avere questa cosa mentre prima essendo molto stretta era pericoloso quindi un'ulteriore opportunità per i camplesi ma anche per i turisti che verranno a Campli ora apriamo la pagina sportiva che però si mischia per così dire con la cronaca perché ci sono anche i nomi del presidente del Pescara Daniele Sebastiani e degli ex calciatori Biancazzurri Chintero e Immobile nella lista degli oltre 60 indagati nell'operazione fuori gioco l'inchiesta coordinata dalla procura della Repubblica di Napoli per evasione fiscale e false fatturazioni vediamo Una nuova bufera si abbatte sul calcio italiano la Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta fuori gioco ha eseguito da questa mattina un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di 64 persone tra cui massimi dirigenti calciatori e procuratori di squadre di calcio di serie A e serie B l'ipotesi di reato evasione fiscale false fatturazioni l'inchiesta è condotta dai PM della procura di Napoli Danilo De Simone Stefano Capuano e Vincenzo Ranieri coordinati dal procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli coinvolto anche il Pescara nella persona del presidente Daniele Sebastiani nel mirino degli inquirenti la cessione dell'ex giocatore bianco-azzurro Chintero al porto al termine dell'ultima stagione di serie A l'inchiesta è partita dalla cessione invece di Lavezzi dal Napoli al Paris Saint Germain tra le decine di indagati nell'indagine della procura di Napoli che ha portato al sequestro di beni per circa 12 milioni di euro ci sono anche l'amministratore delegato del Milan Adriano Galliani il numero uno della società partenopea Aurelio De Laurentiis il presidente della Lazio Claudio Lotito e l'ex presidente ed amministratore delegato della Juventus Jean-Claude Blanc siamo assolutamente sereni e convinti di avere fatto tutto secondo le regole abbiamo già messo le carte nelle mani dei nostri legali attendiamo fiduciosi che si faccia chiarezza così il presidente del Pescara Daniele Sebastiani Sebastiani è indagato in quanto presidente del club Adriatico per il pagamento di un benefit al centrocampista colombiano Juan Fernando Quintero che ha vestito la maglia del Pescara nella stagione 2012-2013 secondo gli inquirenti ci sarebbero irregolarità nel pagamento dell'IVA e per la stessa vicenda è indagato anche il calciatore colombiano l'indagine risale ad un anno fa e riguarda l'affare Quintero ha confermato il padrone del Pescara a suo tempo fornimmo tutte le carte agli inquirenti e oggi ci è arrivato l'avviso di conclusione delle indagini ma noi siamo ha concluso il presidente del Pescara assolutamente sereni e convinti che non ci saranno conseguenze e sono concetti questi ribaditi anche in una nota diffusa nel tardo pomeriggio proprio sul sito della Pescara Calcio non scopriamo nulla di nuovo sono vicende ormai in piedi da un anno e per le quali la società si è sempre messa a disposizione senza nulla nascondere nei confronti degli organi competenti abbiamo sempre rispettato le regole e al momento stiamo lavorando per formulare un ricorso confidando nel giusto iter di giustizia invitiamo tutti a restare tranquilli come siamo tranquilli noi e mi auguro che la vicenda non distorga l'attenzione sull'importante cammino dei nostri ragazzi e anzi mi auguro che i nostri tifosi il sabato diano un segnale forte a tutto l'ambiente per l'amore e per la passione che noi tutti nutriamo nei confronti della Pescara Calcio queste le parole pronunciate appunto attraverso questa nota sul sito della Pescara Calcio dal presidente Daniele Sebastiani e su questa vicenda è intervenuto anche nel pomeriggio il tecnico Biancazzurro Massimo Oddo peraltro anche un trasferimento dello stesso Oddo dal Milan al Lecce sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti Oddo non è assolutamente indagato mentre per quel trasferimento tra gli altri sono indagati l'amministratore delegato del Milan e il procuratore Marco Sommella e l'altro procuratore Alessandro Moggi sentiamo cosa ha detto Massimo Oddo assolutamente no non ci tocca non ci tocca e conoscendo bene la situazione non credo che tocchi anche neanche la società è una cosa generale non è una cosa che riguarda qualcuno in particolare riguarda cose che vengono fatte normalmente che sono sempre state fatte che adesso magari la legge ritiene non giuste ma siccome ne so qualcosa perché negli anni passati riguarda più o meno argomentazioni su cui sono ci siamo passati anche noi calciatori con i procuratori e quant'altro sono tutte cose facilmente dimostrabili facilmente dimostrabili sul fatto che non ci sono molte di evasione assolutamente no sono io conoscendo abbastanza bene questa cosa sono strasicuro che che è una cosa che non non ha senso neanche e ora parliamo di Virtus Lanciano perché è arrivato quest'oggi ha sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra il portiere Alessio Cragno in attesa dell'ufficialità che non è ancora arrivata del suo trasferimento però Cragno come detto è a disposizione del tecnico d'Aversa e sabato difenderà i pali della porta Virtusina contro il Trapani vediamo il servizio con le prime immagini di Alessio Cragno in rosso nero giunge al termine la trenovela Alessio Cragno il portiere è finalmente arrivato a Lanciano e oggi si è allenato con i nuovi compagni di squadra la situazione si è sbloccata nelle ultime ore grazie all'arrivo a Cagliari squadra da dove proviene Cragno e che resta titolare del cartellino del giocatore del portiere Raffaele Dalle Verona il tecnico Rastelli ha potuto lasciar partire colui che nella prima parte della stagione è stato relegato in panchina dalla presenza di Marco Storari i tempi si sono allungati in attesa che gli isolani trovassero un altro dodicesimo Alessio Cragno era una sorta di promesso sposo della Virtus che si era interessata al forte portiere già da questa estate ma l'operazione non era giunta a compimento con documento per la Virtus che non ha rinforzato il reparto e per lo stesso portiere che dopo 14 presenze da titolare lo scorso anno in A sempre col Cagliari si è ritrovato panchinato per tutta l'andata Cragno da sabato sarà subito in campo al Biondi contro il Trapani e resterà a Lanciano in presido fino al prossimo giugno Virtus che cerca di restare concentrata sul campo nonostante ieri sia arrivato un secondo deferimento a carico della società per responsabilità diretta e a carico dell'amministratore protempori di Menno di Bucchianico per aver omesso di attestare i pagamenti di IMS e IRPEF di luglio e agosto entro lo scorso 16 ottobre un'altra penalizzazione dovrebbe gravare dopo il meno uno già arrivato settimane fa tornando al mercato si registrano le uscite degli attaccanti Eric Lanini passato al Como via Juventus titolare del cartellino e Antonio Rozzi che è già finito al Siena dove ha debuttato domenica scorsa il difensore Filippo Penna è finito in prestito alla Paganese sempre in Lega Pro nelle ultime ore si è registrato l'interessamento per il centrocampista del Sangallo Dejan Iagnatovic oggi la Virtus si è allenata a Lanciano domani mattina invece la seduta di allenamento si svolgerà a San Giovanni Teatino in Lega Pro ci sono le designazioni arbitrali per le gare della prossima giornata Pontedera L'Aquila sarà affidata a Mantelli di Brescia Teramo Sant'Arcangelo a Volpe di Arezzo e poi il giudice sportivo ha fermato per una giornata il centrocampista De Francesco dell'Aquila e quello del Teramo Stefano Amadio inibito fino al 16 febbraio il DS dell'Aquila Alessandro Battisti non ci sono provvedimenti disciplinari nei confronti di tesserati delle squadre avversarie che saranno avversarie delle abruzzesi appunto Pontedera e Sant'Arcangelo e ora passiamo alla serie D e parliamo del Chieti dopo le dimissioni del tecnico Donato Ronci subito dopo la partita persa domenica ad Avezzano ora la società è in cerca di un sostituto ma oggi c'è stato l'annuncio fino alla gara di domenica Langerini contro il Campobasso la squadra sarà in autogestione e a guidare la squadra sarà il capitano Federico Delgrosso l'uomo di maggiore esperienza e proprio Delgrosso oggi ha parlato prima dell'allenamento Delgrosso è un momento delicato intanto vi siete presi da quello che si è capito una settimana per riflettere ma comunque per lavorare diciamo così in autogestione poi con la figura del capitano a guidare il gruppo sì è una forma di una scelta fatta insieme alla società proprio per per dimostrare anche la società a noi stessi di anche comunque lo staff che c'era di che comunque anche noi giocatori abbiamo abbiamo delle colpe quindi vogliamo metterci anche nella faccia assumendoci le nostre responsabilità è un gesto nuovo forse un gesto anche coraggioso però sinceramente non abbiamo secondo me tutte le carte regola per uscire da questa situazione per quanto riguarda la guida tecnica se ne stanno occupando quindi questa cosa non deve far pensare nulla di strano ma solamente un'azione voluta insieme da società e anche squadra per prendersi le proprie responsabilità e per cercare di uscire da questa situazione in una maniera più più veloce possibile dando anche la possibilità alla società appunto di scegliere l'allenatore che reputi che reputa insomma adatto in questo momento e come c'è stato modo di far tornare su i suoi passi Ronci per noi Ronci è un continuerà ad essere un punto di riferimento perché quello che ha fatto lui in un anno e mezzo a Chieti pochi allenatori l'avrebbero fatto e con le porte c'è una partita molto difficile delicata vista anche la situazione in classifica il campo basso ha avuto un momentaccio di crisi vera e ne sta uscendo quindi io sono fiducioso che anche il Chieti possa riprendere il cammino che aveva intrapreso qualche domenica fa domani domani si giocherà il recupero della partita tra Olimpia Agnonese e Avezzano la partita che si doveva giocare due domeniche fa il 17 di gennaio cosa che non fu possibile causa neve domani alle 14.30 al Civitelle dunque il recupero al Civitelle di Agnone intanto ai nostri microfoni dopo la bella vittoria sul Chieti il presidente dell'Avezzano Gianni Paris ha esternato così la sua soddisfazione Presidente un Avezzano essenziale pragmatico che ha giocato una gara in crescendo e ha vinto con merito aggettivi che confermano la volontà di un gruppo che vuole risalire la china fare un campionato di vertice abbiamo i mezzi per stare tra le prime cinque del campionato l'ho sempre detto mi ero stancato però di affermare che la squadra gioca bene solo fino agli ultimi 16 metri oggi invece abbiamo dimostrato di essere stati cinici e concreti negli ultimi 16 metri e determinati vedi le palle spazzate anche fuori per puntare ad una vittoria necessaria che anche dal punto di vista del morale in occasione anche di quello che sarà il recupero tra pochi giorni mercoledì 27 contro l'agnonese ci mette nella condizione di scendere in campo in molise con la stessa voglia la stessa determinazione io non ci faccio niente di una vittoria una stagione si costruisce con una serie di risultati positivi e speriamo che questo gruppo si metta in testa di tornare a macinare punti domenica dopo domenica da vezzano dicevano la punta la punta è esploso questo ragazzo del 96 beh noi la punta l'abbiamo presa non abbiamo preso un giocatore da 3.000 euro al mese o più di rimborso abbiamo preso uno di prospettiva viene di curso dalle giovanili dal primavera della Fiorentina una piazza come la nostra delle nostre dimensioni senza grandi mezzi economici con le industrie che ci sono dietro può soltanto puntare ad una crescita dei giovani ma noi la facciamo sul serio noi abbiamo dei convitti dove i ragazzi non pagano nulla non solo della prima squadra ci mancherebbe ma anche del settore giovanile questo ha dimostrazione che c'è un obiettivo chiaro di ritornare tra i professionisti entro il centenario ovvero entro il 2019 finisce qui questa terza edizione del TG6 che torna domani con la prima canonica edizione delle ore 14 grazie per averci scelto grazie per aver guardato